Si è tenuta a Campli, presso la Sala Consigliare, la conferenza stampa del secondo festival del formaggio fritto e dell'arrosticino a Piancarani di Campli. Alla presenza del sindaco Agostinelli, l'azienda agricola di Pancrazio, l'associazione culturale Compagnia Farnese, stampa e tv. Nell'occasione l'associazione ha consegnato un contributo economico in assegno a titolo di beneficenza per la casa famiglia Manuela. Il festival partirà giovedì 29 agosto e terminerà 1 settembre. Una a quattro giorni all'insegna della buona musica, intrattenimento, animazione per bambini, piatti tipici del territorio a chilometro zero, birre artigianali. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Quattro giorni veramente dove ci sarà musica ma che è l'occasione veramente per assaggiare e provare prodotti che vengono appunto proprio dal nostro territorio. E questo ci permette anche come amministrazione comunale di creare una serie di servizi collaterali che aiutano la promozione poi di Campli come uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi abbiamo creato questa iniziativa del pulmino che permetterà a tanti di partire proprio da Piancarani, dall'azienda agricola e venire in centro per visitare quelle che sono le bellezze del nostro centro storico. Saranno quattro serate all'insegna del divertimento e della buona cucina. Il divertimento appunto si chiama Festival Non Sacra perché all'interno della stessa amministrazione ci saranno intrattenimenti musicali a partire da giovedì sera con Robi Santini per chiudere la domenica con un gruppo forte di Roma. Quattro, cinque ragazzi quindi a tutti gli uomini gli diamo il benvenuto, tutti i prodotti aziendali, cucineremo solo, esclusivamente quello che l'azienda produce e trasforma. Quindi dalla pecora alla gallara, agli rosticini, formaggio fritto che è una delle nostre specialità, salsicce e poi vediamo se qualcosa sicuramente ci inventeremo per agli dare meglio il fine serata. Noi doneremo un assegno di 300 euro alla Casa Famiglia appunto perché l'associazione nasce per promuovere il sociale e inoltre la Casa Famiglia sarà ospite ogni sera al nostro evento.